Allo stesso tavolo il mondo della scuola è quello del lavoro, dell'artigianato in particolare, e in mezzo il Rotary Club Gubbio, che con il progetto Acchiappa Talenti adotta un giovane artigiano, punta a sviluppare sempre più i contatti tra i due ambiti. Tra i giovani poi deve crescere la coscienza dell'importanza del lavoro artigianale e della professionalità che può derivare dall'utilizzo dell'intelletto. Per questo il club, presieduto da Giampietro Rampini, ha deciso di istituire cinque borse di studio di 500 euro ciascuna in memoria del figlio Francesco, prematuramente scomparso nel settembre 2012, quando si era già contraddistinto come giovane artigiano innovativo, creativo e proiettato verso l'estero, così come è stato sottolineato in sede di presentazione di questa iniziativa destinata agli studenti dell'ultimo anno delle superiori, ma anche ai diplomati degli istituti e gubini nel 2012-2013. Per partecipare occorrerà progettare e realizzare un manufatto ispirato a quattro linee guida, artigianato artistico, design, innovazione e commerciabilità, accompagnato da una breve relazione. Proprio la valutazione della fattibilità del progetto è stato sottolineato da concretezza e innovatività all'iniziativa, che, ha detto il segretario di Confartigianato Giovanni Meli, rimette al centro dell'attenzione il valore della piccola impresa in una fase di forte disoccupazione giovanile, ma ha anche il merito di promuovere l'imprenditoria tra le nuove generazioni. Si svecchia inoltre l'immagine dell'artigiano, gli ha fatto eco Andrea Rueca, rappresentanza di CNA, che oggi ha invece caratteristiche che possono essere vincenti nelle sfide attuali. Plauso all'iniziativa da parte dei dirigenti scolastici Naderi per il polo tecnico, secondo il quale questa iniziativa ha anche il merito di convogliare abilità extrascolastiche, e Marinangeri per il liceale, che ha messo in evidenza il valore dell'istruzione artistica in una realtà come Gubbio. Città è stato ribadito, da sempre considerata centro, l'importanza straordinaria nella produzione di manufatti artistici. L'iniziativa del Rotary vuole perciò stimolare e incoraggiare le nuove generazioni a riappropriarsi della storia e della cultura di questi territori, umus sul quale innestare la loro creatività e le possibilità offerte dalle tecnologie in grado ad esempio di accorciare le distanze. Le domande di ammissione, con la descrizione dettagliata del manufatto da realizzare, vanno presentate entro il 30 giugno. Tutte le informazioni sono contenute nel sito www.achiappatalenti.it. Dieci punti andranno però a chi si iscriverà entro il 30 aprile. Il termine per la consegnare manufatti è fissato per il 15 settembre presso la sede dello studio Tanganelli. Sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione i candidati potranno chiedere assistenza delle scuole e delle botteghe artigiane aderenti. La commissione, composta dal presidente Rotary Club e da esperti, studiosi e storici, valuterà i manufatti e nominerà i vincitori delle cinque borse di studio, le cui opere insieme a quelle ritenute idonee verranno esposte in location prestigiose in occasione di eventi in città. Intenzione del Rotary Club è anche quella di attivare tutte le forme possibili per ottenere finanziamenti che possano permettere ai cinque vincitori di compiere uno stage di sei mesi retribuiti in parte presso le botteghe artigiane e in parte in aula.